Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015, siamo con Guido Guerrieri del Comune di Ravenna e questa mattina il tema è i giovani e l'ambiente, ma soprattutto i giovani nell'ambito delle decisioni collegate alle tematiche ambientali così importanti, difficili, a volte intricate. Come sarà il percorso che vi coinvolgerà come Comune di Ravenna in questa iniziativa che noi riteniamo veramente interessante, intrigante? Sì, noi siamo coinvolti molto profondamente per quanto riguarda fare i conti con l'ambiente in Ravenna 2015 dove raccogliamo molte iniziative, oggi in particolare ci focalizziamo su questo progetto Life Europeo che ci ha procurato un certo entusiasmo, a cui abbiamo aderito con molto piacere, che riguarda il coinvolgimento dei giovani nelle decisioni sull'ambiente, quindi un coinvolgimento, una responsabilizzazione dei giovani, fatto con due istituti, uno superiore e uno delle medie, portando i giovani a confrontarsi e rapportarsi con quello che è la realtà ambientale, quindi dei monitoraggi in termini di qualità dell'aria e rumore e la loro percezione di questo rischio, quindi capire quanto loro sono coscienti dei rischi ambientali che li circondano e anche quanto loro sono disposti a spendere, a quanto possono mettersi in gioco per affrontare questi temi. Grazie, grazie a Vido Guerrieri, fare i conti con l'ambiente Ravenna 2015.